Eccoci qua! Inaugurato sabato 10 agosto il parco giochi della frazione di Nepezzano a Teramo. L'intervento fa parte dei progetti di riqualificazione che il Comune sta mettendo in campo su tutto il territorio, grazie ai fondi del PNRR. Non solo centro storico dove stiamo producendo uno sforzo importante che è ai noi, insomma, dalla percezione anche di qualche disagio, ma anche frazioni con interventi atti a riqualificare zone periferiche della città, borghi. Ecco, questo è solo un elemento di un discorso più ampio che ha previsto la realizzazione di un parco giochi a Contra San Benedetto con l'atterrato che inaugureremo nei prossimi giorni, parco giochi a Piano della Lente, Putignano e proprio qui, a ridosso del parco giochi di Nepezzano, stiamo realizzando un campo polivalente in zona via Anna Magnani, proprio a servizio della comunità nepezzanese. Certo, fondi dedicati per questo genere di attività che sapientemente l'amministrazione ha speso. Ringraziamo chiaramente chi ci ha preceduto rispetto alla possibilità di inaugurare oggi questo monofatto. A dieci anni di distanza, in occasione della festa del santo padrono di Nepezzano, San Lorenzo Martire, è arrivata l'inaugurazione della nuova area, alla presenza delle autorità e dei bambini della casa famiglia Madre Esther. Le comunità, nelle frazioni, nelle periferie, sono quelle che poi animano attraverso interventi che sinergicamente consentono di vivere i luoghi, gli spazi, le modalità di convivialità e socializzazione che sono propri a luoghi ristretti.